Musica Bella a tutti ragazzi, qui da te vi sta parlando, oggi siamo qua su Call of Duty Advanced Warfare Siamo qua con un video particolare, molto particolare, chi non so benissimo come chiamare Cioè tipo Red Dance Challenge o una roba del genere Non c'è un nome perché sinceramente non l'ho mai, cioè non l'ho vista da nessuna parte Un miscuso di cose, no? Ossia faremo una partita di dominio Il primo round lo giocheremo con il joystick all'incontrario Che significa che appunto io dovrò cercare di giocare tenendo il joystick così E non credo sia facile come cosa, ma credo sia abbastanza difficile Perché appunto è tutto all'incontrario Ma poi non è manco a dire come la visuale invertita Perché la visuale invertita comunque avete il joystick essenzialmente lo tenete normale Cambia solo la visuale sopra sotto Cioè comunque è una difficoltà Però essenzialmente i tasti e tutto è uguale Mentre invece qua credo che la difficoltà diventi molto molto più alta Comunque il primo round si baserà su questo Il secondo round invece utilizzeremo sempre il joystick all'incontrario Ma aggiungeremo un'altra cosa che non so di definirla una difficoltà o un aiuto Ossia la visuale invertita di cui stavo parlando prima Che appunto per chi non lo sapesse è che voi guardando verso l'alto con la levetta Il gioco vi fa vedere verso il basso E quindi verso il basso vi fa vedere verso l'alto È un pochettino complesso però non so se all'incontrario invece mi può aiutare È una cosa che sinceramente non so, non mi va di pensarci perché la sorpresa sorprende, no? Quindi cerco una partita e ci becchiamo direttamente appena comincia Ok ragazzi abbiamo trovato una partita Per fortuna non è cominciata La mappa a quanto pare è ascent oppure casuale Adesso vediamo un attimino in volta la votazione Noi vediamo casuale perché ci piace la sorpresa E prepariamoci con il nostro joystick all'incontrario E in pratica sarà abbastanza difficile Spero di riuscirci Mano a mano dovrò una posizione più comoda Però scopriremo insieme Bene ragazzi siamo in una mappa Riot E che comunque è abbastanza Cioè la conosco abbastanza bene Mi ci trovo abbastanza bene Vedremo un pochettino com'è giocare così Io non so se si veda Comunque diciamo andate a fiducia Perché vi è sicuro che sto giocando così Perché comunque lo vedete anche da come uno gioca Non gioco così La classe Allora cerchiamo di capire Se noi andiamo verso di noi Andiamo dritto E questo è il grande passo avanti E poi la visuale qua Se tu vai a sinistra Lui ti fa andare a destra Aspettate eh Allora Se noi facciamo così No 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 Allora andiamo dritto intanto Se al cazzo andiamo dritto Allora andiamo Dobbiamo andare indietro Qua si Così si mira E guardiamo verso Porca miseria Allora non posso Se mi metto a correre Non riesco a controllarmi poi Lo so Me lo sento proprio È una cosa assurda No raga Qua è pazzesco Non si può giocare così Allora Obiettivo per ora È fare una kill Poi dopo che ci saremmo destreggiati ben benino Potremmo anche essere più Oh L'hai visto L'hai visto L'hai visto È andato lassù Allora Ma porca puttana Che figata Quella mimetica Allora Mettiamo qualcosa di sì Non ci riesco È una roba assurda Ci dovete trovare Provateci E iniziamo a giocare Qua secondo me Al secondo round Forse va meglio Perché Ci destreggiamo Magari ci saremo Un pochettino abituati Perlomeno lo spero Ecco raga Ecco raga Porca puttana Porca puttana Oppure Oppure tipo Mi sono pure incazzato dopo la morte Perché Ero così Preso Dalla cosa Perché ci stavo riuscendo ragazzi Non perdiamo le speranze Adesso dobbiamo fare la cosa più Figa del mondo Sapete cosa Saltare Se va il cazzo Porca puttana Raga Una Una Io non chiedo tanto Una Per favore Ma è una cosa assurda Non potete Manco Eh Vaffa culo Abbiamo pure Nel primo dei ripornamenti Siamo proprio Scarzi Ma No No Non ci riesco L'hai visto Guarda Li sono passati in tre Eh Pro player Vero Allora Scambio La levetta Del movimento Con la levetta Della visuale Perché di solito Sono invertite Lo sapevo Perché l'avevo visto Che lui M'aveva visto E si era Andato Beh guardate È proprio Brutto A vedermi così Che cammino Mettiamo la visuale Invertita Che potrebbe Se ci fa mettere E Che ha fatto Soltà tutto Opzioni Visuale Invertita Sì Allora Vediamo un pochettino Cosa esce fuori Perché adesso Se noi guardiamo sopra Guardiamo sopra E quindi questo qua È Ti pareva No no Via 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 Vaffanculo Come si fa A muoversi Ragazzi Ragazzi Giuro La labbia Non si può Giocare Provateci Una partita Di qualsiasi modalità E poi Mi scrivete nei commenti Come è andata Cosa Cosa avete fatto Quante kill avete fatto Perché Io non riesco a farne Manco mezza C'è manco un assist Mezza sarebbe Un assist Dai Cazzo Oddio L'ho hitmarkerato Raga L'ho hitmarkerato Cazzo Hitmarker Hitmarker È Fantastico Ci piace Poi magari Se lo fate Per un bel po' Di partite Ma ho votante Perché non è come La visuale invertita Assolutamente no Solo visuale invertita È molto facile Cioè Non è facile Però È molto più facile Rispetto a questo Bello Io che cercavo là Di andare A Ma d'assist Oddio Che sono tutti quei punti Ah no Era Un ricordamento No Non si può fare Ma sapete che è E non è che Non si può fare È che Come dire Il cervello È adattato Cioè È Come dire Tu sai Sai fare quello No Cioè sai che il gioco Funziona così No Non riesci subito A Quello sta la camperata Dallo scorso round Zero punti Pro player ragazzi Allora Cioè Io Non so voi Non so voi Ma È una cosa impossibile Non potete capire Cioè perché Voi lo fate No E ci mettete Tutto Quello che volete Ma non ci riuscite Non ci riuscite Perché Cioè Non è come la visuale invertita Perché la visuale invertita Tutto sommato Non è Difficile È solo Cioè Cambia sopra e sotto Quindi ok Però Farlo così È Una roba assurda Però provateci ragazzi Provateci perché comunque È figo Provare queste cose Magari la prossima volta Faremo direttamente La Intanto usciamo Da qua la lobby Faremo soltanto Visuale invertita E vediamo un pochettino Come va Spero di fare meglio Perché sicuramente Sì Almeno una kill La farò O perlomeno un assist Perché zero punti Non si possono proprio vedere Quindi ragazzi Lasciate un piace Lasciate un commento Seguitemi su tutti I sogni Che trovate in descrizione Noi ci becchiamo Prossimamente Con tanti nuovi video Questa sera Dovrebbe uscire Rotto di John 1 Credo Ma non ne sono sicuro Perché non so Quando esce questo video E quindi ragazzi Noi ci becchiamo Ad un prossimo video Vi ricordo Di scrivervi nei commenti Di provare a fare Questa enorme cazzata Del mondo Su Call of Duty O su qualsiasi Altro Call of Duty E Dirmene nei commenti Come dire Il vostro risultato Com'è andata Se vi è piaciuto Se vi siete trovati bene Oppure Se voi siete Le uniche persone Nel mondo Che giocano Normalmente Con il joystick All'incontrano Quindi Ho detto prima Spero che questo video Vi sia piaciuto E ci becchiamo A presto Com'è andata Testa Prima